33 nuovi dipendenti al comune di Sciacca nei prossimi tre anni. Sono i numeri del piano delle assunzioni che l'amministrazione guidata da Francesca Valenti starebbe per licenziare, seppure l'iter non sarà semplice o breve. Dopo anni di blocco dei concorsi che ha impedito la sostituzione dei tanti dipendenti e dirigenti andati in pensione con una pianta organica ormai ridotta ai minimi termini, l'amministrazione incarica la possibilità di sfruttare il decreto concretezza che consente di espletare i concorsi senza far ricorso esclusivamente alla sola mobilità. Tra le due opzioni, posto che entrambe consentono di avere il nuovo personale, si è scelto di seguire la strada dei concorsi ed è stato elaborato un piano che prevede di spalmare le 33 nuove assunzioni in tre anni. Un iter appena avviato se si pensa che al momento è solo una direttiva, che la delibera dovrà essere approvata dall'Aggiunta e che è comunque poi legata al bilancio comunale che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. È comunque una notizia a fronte della grave crisi legata alla carenza di personale in servizio in cui da anni si trova il Comune di Sciacca. I concorsi infatti riguarderanno diversi settori dalla Polizia Municipale all'area tecnica, quella amministrativa. Non vi sono differenze anche se ovviamente oltre alla carenza di vigili e soprattutto l'Ufficio Tecnico Comunale, quello per il quale è stato lanciato un vero e proprio allarme, in virtù dei pensionamenti che negli anni si sono registrati e ai quali si aggiungono recentemente quelli legati a quota 100, che da settembre renderanno ancora più difficile dare risposte ai cittadini o riuscire a star dietro alle opportunità legate ai bandi comunitari nella predisposizione dei progetti. 33 nuove assunzioni, posto che l'ITAR vada a conclusione, non garantiranno certamente la copertura della pianta organica del Comune di Sciacca, ma sarebbe comunque un buon inizio.